Allora buongiorno oggi facciamo il video sulla finitura, questo è un po' italiano e un po' fransè, facciamo il video sulla finitura per mostrare quello che è il trattamento che viene fatto. Abbiamo già fatto il video sull'impasto ovvero questo impasto di paglia, terra, sabbia, un impasto stabilizzato quindi con circa il 5-8 per cento di cemento. Qui siamo sulla plaza di Finition, l'equipe di Finition è composita di 3 persone, sono in termini di lavoro, la composizione di Finition è un po' di paio, della terrica, la terra, la terra, il sable e un po' di cemento, con la paio, la paio di schieno. Abbiamo parlato di Finition stabilizzato perché c'è un po' di cemento. L'equipe è Malan Diabati, Lio, Corobon e Ousman Barlow. Quindi, abbiamo fatto il mix, poi abbiamo fatto la prima couche, poi abbiamo fatto il trattamento per fare la finition molto lisse. E McFive, come? Cosa se sente? Cosa? Sì. Salaam alaichoum, l'albanyari ne ha? Come senti qui? Sì. si si avete fatto il nostro cattino, ci sono un po' di e dai da due. Rimini alaichoum, come un po' di è venuta, la nostra sfida, la nostra sfida, la nostra sfida e la nostra sfida, la nostra sfida e la nostra sfida, e poi la nostra sfida e l'opera, la nostra sfida. La sfida, la nostra sfida e la nostra sfida. E poi la sfida. Ma il nostro frito è molto importante. Sì. Ok. Perfetto, non si chiama il frito. Va bene. Raoul vedo. questo è il primo strato di finitura uno strato che chiamiamo di supporto e questo invece l'ultimo strato questo è quello che abbiamo fatto ieri quindi questo è il risultato e anche internamente abbiamo fatto alcuni strati quindi questa è la parte interna e la finitura viene così. Giambati è l'interno di fare le dernier push. Voilà Aliu, Coroban e Ousmane Balo possiamo entrare a fare le melange. Aliu e Ousmane preparano l'impasto l'impasto che abbiamo preparato ieri e che oggi facciamo una piccola aggiunta di cemento per stabilizzarlo Grazie mille. Grazie mille. A presto. L'equipe finitura. L'equipe finitura, siamo contenti, tutti, tutti. Ciao, ciao. Ciao, ciao.